La Corte d'Appello di Firenze per il filone del processo per bancarotta sulla ex Banca Etruria ha riformato le sentenze di primo grado del Tribunale di Arezzo con riti alternativi, assolvendo il già Vicepresidente e Direttore Generale Alfredo Berni ed invece condannando con pena ridotta a otto mesi l'ex membro del CDA Rossano Soldini, mentre per l'ex Presidente Giuseppe Fornasari e l'ex Direttore Generale Luca Bronchi la Corte ha accettato la proposta di concordato in appello, il cosiddetto patteggiamento in appello a tre anni e quattro mesi. Fornasari e Bronchi venivano da una condanna in primo grado per bancarotta fraudolente a cinque anni in reto abbreviato, ma già le precedenti udienze difensori Antonio Davirro e Carlo Baccaredda hanno proposto alla Procura Generale di Firenze il concordato in appello accordato nella riduzione a tre anni e quattro mesi. Quanto a Berni, difeso dagli avvocati Alessandro Traversi e Alessandro Liberatori, la soluzione è stata decisa perché il fatto non costituisce reato. In primo grado Berni era stato condannato a due anni in rito abbreviato per bancarotta fraudolenta riguardo all'aver concorso nel deliberare due finanziamenti che per l'accusa furono tali da aggravare il dissesto finanziario di Banca Etruria, ma in appello i difensori hanno evidenziato che si tratta di decisioni prese ben otto anni prima alla dichiarazione di insolvenza della banca. Rossano Soldini invece era stato condannato in primo grado per bancarotta semplice con rito alternativo anche lui ad un anno. La sua difesa, l'avvocato Francesca Arcangeli, aveva chiesto la soluzione ma la Corte l'ha concessa in parziale riforma della sentenza di primo grado solo per il finanziamento a Sacci e non per quello alla società Città Sant'Angelo.